ciaspolare d'inverno è sicuramente una delle attività più belle e più divertenti però bisogna sapere anche utilizzare bene e in sicurezza le ciaspole oggi insieme vediamo una guida definitiva per utilizzare le ciaspole sia in salita che in discesa anche in pianura ma soprattutto per saper utilizzare in sicurezza senza farci male ma iniziamo col video la prima cosa che dobbiamo fare quando prendiamo in mano delle ciaspole è capire qual è la destra e qual è la sinistra nel 99 per cento dei casi è semplice è scritto sulla ciaspola quindi basta leggerlo se per qualche motivo non dovesse essere scritto il modo più semplice per capire qual è la destra e qual è la sinistra è che il cricchetto di chiusura della parte superiore deve essere sempre all'esterno quindi quando noi andiamo a mettere per terra la nostra ciaspola e andiamo a cercare di capire qual è il destro e qual è il sinistro mettendo il piede in questo modo siamo sicuri di avere messo la ciaspola giusta sul piede giusto a questo punto che abbiamo messo dentro il piede dopo averla regolata in lunghezza andiamo a stringere la parte davanti col sistema che hanno le vostre ciaspole e poi a sistemare la parte superiore con il classico cricchetto comunque con il dispositivo che avete voi sulle vostre ciaspole mi raccomando stringete sempre bene perché se il piede balla all'interno potreste farvi male la seconda cosa da fare importantissima davvero perché potreste farvi un sacco male se non lo fate è quella di andare a regolare la parte posteriore nella parte posteriore generalmente troviamo l'alzatacco è una linguetta questa linguetta va aperta e ce ne dobbiamo dimenticare il piede deve poter sempre basculare è importantissimo vi assicuro perché la ciaspola è pensata che nel caso dovessimo cadere la parte di telaio esterno va a staccarsi dalla piastra dove abbiamo il piede questo per evitare che il rampone della ciaspola possa farci dell'ulteriore male se noi andiamo in giro con la linguetta attaccata non andrà a staccarsi il telaio quindi rischiamo di farci doppiamente o triplamente male rispetto a quello che ci faremo già durante una caduta quindi davvero importantissimo tirate via la linguetta e non usatela mai assolutamente né in salita né in discesa né in pianura potete utilizzarla solamente quando avete le ciaspole nel bagagliaio della macchina o attaccate al vostro zaino per il resto dimenticatevene il primo caso che vediamo è quello in cui camminiamo in piano su una strada forestale beh in questo caso sarà molto semplice innanzitutto dobbiamo tenere i piedi un pochino più larghi rispetto al normale questo perché appunto abbiamo le ciaspole non c'è bisogno di andare in giro con tre metri di spazio tra le gambe non dobbiamo essere big foot ci basta giusto un pochino più spazio rispetto al normale e soprattutto quando camminiamo alziamo i piedi normalmente proprio come una camminata normale non c'è bisogno di alzare il piede col ginocchio che ci arriva al petto non c'è bisogno quando iniziamo a camminare molto semplice alterniamo i bastoncini con le ciaspole come abbiamo sempre fatto durante il trekking e così andiamo avanti a fare la nostra ciaspolata il secondo caso che vediamo invece è la salita innanzitutto prima cosa da fare quando dobbiamo fare una salita puntiamo i nostri bastoncini e andiamo a tirar su l'alzatacco su entrambi le ciaspole perché vi assicuro torna veramente utile a questo punto che siamo pronti per salire ci riprendiamo i bastoncini e abbiamo due tipi di salite che possiamo fare adesso vediamo la salita più ripida e più tecnica in questo caso dovendola prendere diciamo di petto proprio verticalmente dovremo andare a lavorare tanto con il rampone anteriore quindi cosa facciamo sempre alternando ciaspola ai bastoncini andiamo a puntare il rampone anteriore in modo tale da fare presa sulla nostra neve e così andiamo avanti puntando per bene il rampone il secondo caso che vediamo invece è quello in cui abbiamo magari un pendio in cui si dobbiamo fare una salita però non è una salita così eccessivamente ripida in questi casi per fare meno fatica e soprattutto anche per farsi meno male ai piedi vi consiglio di salire a zig zag come vedete io sto salendo tranquillamente prendendo quota poi arrivato a un certo punto mi giro e vado avanti a zig zag il caso più difficile in cui andiamo a utilizzare ciaspole sono i traversi ovvero quando dobbiamo tagliare perpendicolare un terreno abbastanza ripido questi sono i casi più difficili innanzitutto la cosa che vi consiglio di fare per il bastoncino che sta a valle è quello di aumentare magari di qualche centimetro l'altezza in questo modo riusciremo ad utilizzare più facilmente il bastoncino senza doverci spostare col peso a valle come vi dicevo innanzitutto il peso sempre a monte quindi faremo perno praticamente sul piede che sta quasi sempre a monte andando sempre alternando i nostri bastoncini dovremo andare a picchiare giù per bene la ciaspola in modo tale da crearci un gradino una volta creato il nostro gradino avremo una superficie abbastanza piana sul quale poggiare il piede e potremo andare avanti anche con la seconda ciaspola ci creiamo un gradino e proseguiamo in questo modo praticamente andiamo quasi a rendere orizzontale quello che invece è un terreno obliquo e così procediamo per quanto riguarda la discesa invece innanzitutto niente alzatacco e soprattutto come abbiamo visto prima la linguetta sempre abbassata neanche in discesa va utilizzata qui andiamo giù abbastanza facilmente alternando sempre i bastoncini come abbiamo visto anche prima l'obiettivo in questo caso è volentarsi a creare un pochino un gradino col nostro piede quindi quando andiamo giù dobbiamo andare ad appoggiare di tallone soprattutto nella neve fresca questo ci aiuterà davvero tanto crearci un gradino ed evitare di sprofondare ed andare a valle seconda cosa importante dove mettere il peso quando scendiamo dobbiamo cercare di stare col peso all'indietro perché se siamo col peso in avanti rotoleremo giù quindi mi raccomando peso all'indietro e andiamo con un piede bello martello al crearci lo scalino l'ultima cosa che vediamo è il momento in cui magari arrivate in un posto e dovete tornare indietro perché non riuscite più ad andare avanti con le ciaspole non si cammina mai all'indietro se provate a camminare all'indietro sarà molto semplice che andrete a ribaltarvi davvero c'è il rischio davvero di farsi male con le ciaspole per andare all'indietro ci si muove sul posto e si cammina all'indietro ma frontali dunque ragazzi adesso saprete come utilizzare al meglio le ciaspole e soprattutto come utilizzarle in sicurezza io nella speranza di avervi aiutato ad amare questo mondo delle ciaspolate vi ringrazio per aver guardato il video e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao